Le inondazioni non risparmiano Bangkok, impossibile proteggerla, ammette il governo tailandese. Le barriere di protezione non reggono davanti alle gigantesche masse d'acqua che da nord sono già penetrate in alcune zone periferiche. Questi sacchi di sabbia sono stati spinti via dalla pressione dell'acqua, spiega un funzionario. Le zone più basse saranno in vase. L'opposizione chiede lo stato d'emergenza, più potere all'esercito ed evacuazioni forzate, richieste rifiutate dall'esecutivo fresco di nomina. In tre mesi le alluvioni hanno causato più di 300 vittime e danni per oltre 2 miliardi e mezzo di euro.